Il problema che incombe in questo momento è proprio il fattore giovanile, il fattore dei ragazzi. L'abuso di alcol riguarda una fascia d'età sempre più bassa, si parla ormai di bambini di 10 e 11 anni. I dati dell'annuario statistico sull'infanzia e l'adolescenza per il Friuli Venezia Giulia sono impressionanti. Il consumo abituale di vino e birra interessa rispettivamente il 7,8 e il 14,7% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni. Nella stessa fascia abbiamo il 7% di episodi di ubriachezza, un punto in più della media nazionale. È allarmante che si parli già dell'età di 11 anni come prima esperienza del bicchiere e quindi è un compito assolutamente istituzionale quello di aiutare il mondo del volontariato, in questo caso la situazione astra, e quindi cercando anche di toccare i giovani nel loro profondo. Particolarmente preoccupante il fenomeno del consumo smisurato di bevande alcoliche per raggiungere lo sballo che riguarda l'11% dei ragazzi, una tendenza che aumenta tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi assumono la sostanza però senza cognizione di causa, logicamente vanno alla ricerca di questo famoso sballo e poi praticamente si riducono, come si riducono insomma. Io lo dico, non sono una proibizionista, però l'educazione è fondamentale in questo senso. Il fatto che utilizzino questo metodo del bere tanto in poco tempo per arrivare a uno sballo immediato ha sicuramente dei motivi psicologici, forse anche il fatto di non sostenere dei ritmi di vita piuttosto che delle aspettative di questa società che ci vuole tutti perfetti. La provincia torna in campo con il progetto Alcole Giovani, la salute nelle tue mani insieme all'Associazione Astra per il trattamento delle alcol dipendenze. Quest'anno l'iniziativa ha coinvolto 65 classi e 1.400 studenti. A conclusione del lavoro svolto sui banchi, sabato 22 novembre, dalle 9, gli stessi ragazzi daranno vita da protagonisti a un convegno alla stazione marittima.